Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video. Come potete leggere dal titolo, oggi vi mostrerò 5 trucchetti che potranno esservi utili per farvi crescere il canale oppure far andare a meglio un vostro video. Quindi, senza perdici troppo in chiacchiere, andiamo a vedere qual è il primo trucco. Allora, il primo trucco è essenzialmente di registrare un video con una qualità alta sia di video che di audio, perché diciamocelo, al giorno d'oggi sono tutti abituati a vedere dal loro schema del telefono o da un computer un video che sia almeno in full HD, perché diciamo che è un video sgranato, nessuno mai lo andrà a vedere, neanche magari quello nel quale l'audio si sente poco, di conseguenza il video verrebbe chiuso immediatamente. Infatti, un parametro molto fondamentale che dovremmo controllare è il watch time del video. Più tempo qualcuno vede al nostro video, più il video verrà mostrato da YouTube, perché YouTube il giorno d'oggi è il secondo motore di ricerca. Nel senso, dopo Google, la gente per cercare qualcosa va a cercarla su YouTube. Di conseguenza, se il video è di qualità alta, se abbiamo un buon contenuto e il watch time è alto, YouTube mostrerà di più il nostro video e quindi saliremo nelle posizioni delle ricerche. Il secondo trucco è di utilizzare una parola chiave, parola chiave intesa anche come più parole messe insieme, ma che comunque indicano esattamente quello che mostriamo nel video. Come in questo caso, per farvi un esempio, questo video si chiamerà come crescere su YouTube, ad esempio. O comunque questa parola chiave, che è comunque una parola chiave molto forte, che verrà comunque ricercata spesso dalle persone su YouTube. Di conseguenza, dovete inserirlo nel titolo e nella descrizione. È la prima cosa che tu scrivete nella descrizione, perché così YouTube sarà aiutato a collocare meglio il vostro video. Come parola chiave, un trucco molto importante, anche sempre per aiutare YouTube, è rinominare il video che voi andate a caricare. Rinominate il video con la parola chiave e, al posto degli spazi, inserite gli underscore, i trattini in quelli bassi. E, facendo questo, aiuterete YouTube a posizionare meglio il vostro video. Come terzo trucco, vi consiglio di utilizzare molto le schede durante il vostro video e le schermate finali. Questo perché? Perché comunque, mentre una persona vedrà il nostro video, avrà comunque la possibilità di restare all'interno del nostro canale e andare a vedere degli altri video. Di conseguenza, se sarà interessato ai nostri contenuti, sarà anche più probabile che si iscriverà nel tempo. E, appunto, più tempo spende sul nostro canale e sui nostri video, e più YouTube ci premierà, perché YouTube ha lo scopo di intrattenere e di mantenere le persone sul proprio sito il più possibile. Quindi, chi ci riuscirà, verrà premiato, nel senso che i suoi video verranno mostrati più frequentemente. E, ovviamente, più video nostri verranno mostrati frequentemente, più visitazioni noi avremo. Come quarto trucco, vi consiglio di, una volta pubblicato il video, scrivere un commento a voi stessi, fissarlo in alto, mettere like e il cuoricino. Questo sempre perché aiuterete YouTube a indirizzare meglio il vostro video. Questo è un trucco che usano anche i YouTube più famosi. Infatti, guardando anche video di YouTuber con molti iscritti, si nota spesso il loro commento fissato in alto con il proprio like, che evidentemente funziona. Come quinto e ultimo trucco, è molto importante creare una bella home page del canale. Immagine di copertina curata bene, immagine di profilo anche, e, importantissimo, le playlist. Così che, quando qualcuno visiterà il nostro canale, comunque avrà l'impressione di un canale serio, non un caos totale che non porta da nessuna parte. Noi dovremmo comunque creare questa sorta di playlist, video più popolari e via dicendo, per attirare le persone al nostro canale. Facendo questo, come detto prima, questo aiuterà molto YouTube a pompare i nostri video e quindi farci guadagnare visualizzazioni, iscritti, like e commenti. Bene, questi sono i 5 trucchi che volevo, 5 consigli che volevo mostrarvi in questo video. Sono molto utili e spero che vi possano aiutare anche voi a scalare e a far crescere il vostro canale o anche avere qualche visualizzazione più nei vostri video. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato di aiuto, metti pure un like e iscriviti al canale se vuoi continuare a vedere questo genere di video. E noi, come sempre, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao a tutti!